Un saluto a tutti gli amici di mobileworld.it, siamo allo stand di Logitech che è veramente gigantesco, ma in questo caso ci troviamo nel settore di Ultimate Ears, che è la società sussiliaria di Logitech che produce gli speaker dell'azienda. Gli speaker, come probabilmente saprete, sono noti con il brand Megaboom e Boom e in particolare questi sono la terza edizione. Questo che ho qui in mano è il Megaboom 3, mentre questo qui, qui accanto, più piccolino è il Boom 3. Cosa cambia rispetto al passato? Diverse cose. Allora, in particolare è aumentata la distanza massima del Bluetooth, che adesso è fino a 45 metri, aumenta l'autonomia che è di 20 ore con una singola ricarica per Megaboom 3 e di 15 ore con una singola ricarica per Boom 3. Come sempre Logitech mantiene l'audio a 360 gradi e in questa nuova edizione terza l'ha voluto sottolineare rimuovendo la banda che una volta circondava i tasti più e meno per il volume. Quindi sempre audio a 360 gradi, cambia anche il materiale che questo adottato e in questa nuova edizione è più resistente. Ci è stato spiegato che lo stesso materiale viene utilizzato anche in Formula 1 e dalla NASA, quindi è noto ovviamente per la sua particolare resistenza. In questa nuova versione c'è anche un tasto qui sopra cosiddetto Magic Button. Magic perché? Perché permette di fare un gran numero di cose, non solo play, pausa e cambiare traccia, ma anche cambiare playlist. Quindi una piccola chicca sicuramente apprezzata da chi comprerà questi speaker. Come sempre i Boom e Megaboom spiccano per la loro resistenza, sono dotati di certificazione IP67, quindi resistono all'acqua, possono essere completamente immersi come vi faccio vedere adesso e sono anche shockproof. Quindi io posso per la scienza portarmi qui avanti, lasciarli cadere a terra e continuano a funzionare. Giuro che non l'ho fatto senza prendere precauzioni, ho chiesto precedentemente agli addetti che mi hanno confermato che potevo lanciare questi speaker a terra a terra. Vi faccio vedere rapidamente come funzionano immersi in acqua. Can you just put the speaker for me in the water, please? Thank you. Yeah, yeah, it will be perfect. Yeah, of course. Yeah, as you want, just drop the super-preferred. Come potete vedere continua a funzionare anche sott'acqua e galleggio soprattutto. Megaboom 3 e Boom 3 sono disponibili a partire da oggi su tutti gli store convenzionati al prezzo rispettivamente di 199€ per il Megaboom 3 e 149€ per il Boom 3. Per questa rapida anteprima dallo stand Logitech e da Ultimate Ears è tutto, un saluto a tutti i nostri lettori da Giuseppe Tripodi per MobileWorld.it Grazie per la visione!